Di che specie sei? Ma non era anonimo sto gruppo. Come? Non si vede? Non mi posso muovere? Sono basito che tu non mi conosca ancora. Oiseo. Le nuove parfum di Paris. Sei sessualmente soddisfatta? Certo. Sopravvivo alla siccità, alle radiazioni ionizzanti e riesco anche a sopravvivere nello spazio. Sì. Va bene, qual è la tua migliore strategia riproduttiva? Il DNA è mio e lo gestisco io. Quale luce rompe da quella finestra lassù? Essa è oriente e Giulietta è il sole. Sorgi bel sole ed uccidi l'invidiosa luna. La donna. Va bene, grazie. Tanto per cominciare non bevo. Sopravvivo alla radiazioni ioniche e riesco anche a sopravvivere nello spazio. Scusate, Maria. Ionizzanti. Diciamo perché l'ha imparata ionica, non si sa. È il capitello. È una bellissima colonna. Ionizzanti. Ionizzanti. Sì, fammi quello. Sì, fammi quello. Grazie a tutti